si tratta anche questa è bella, un po' ripristinata un po' ripristinata un po' ripristinata adesso devono arrivare però eh dai dai ragazzi che non ha capo uno non finirò molto non bisogna mai abbandonare il cavallo vicente mai abbandonarlo si è spenta ma io viaggio sempre riserva e quando mi fermo ci metto pezzi occhio che arriva uno scusa ma dove cazzo è? ma sviaggi ma sviaggi? ciao 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 che cavallo cazzo ce l'aveva lì cazzo ce l'aveva lì occhio, occhio, occhio scusa oh my god ciao e cazzo questo è bello da far così porco di no dai e beh cazzo quei pezzi qua è bello viaggiare un po anche perché sennò davvero dura 12 ore sta cavalcata